Siamo al terzo giorno, abbiamo quasi finito ma non abbiamo finito di parlarvi di videogiochi perché abbiamo visto ancora cose molto belle quest'ultimo giorno e se avete amato Shadow Tactics, amate i Commandos, amate gli strategici duri e puri tu hai qualcosa per il pubblico Sì, ho qualcosa per il pubblico, hai detto bene Ali perché ho provato anzi no, purtroppo non ho provato ma ho visto una demo giocata davanti ai miei begli occhietti di Desperados 3 Hai detto bene, sviluppato dallo stesso team di Shadow Tactics quindi diciamo una garanzia per l'interpretazione moderna di quel genere ultraclassico di quegli strategici molto classici l'abbiamo visto in azione in una build particolarmente avanzata tra l'altro la Gamescom è stata l'occasione per svelare Isabelle, l'ultimo personaggio e per farci vedere una mappa giocata appunto con tutto il cast di personaggi riuniti diciamo che la base del gioco, il cuore del gioco è quella della serie classica quindi fondamentalmente ci sono queste mappe da ripulire dei nemici con degli obiettivi da completare muovendo i personaggi, utilizzando le abilità dei personaggi in maniera estremamente strategica è chiaramente esattamente come i Desperados precedenti come i Commandos un gioco fatto per farti morire parecchio quindi si va di trial and error, bisogna provare differenti strategie in questo caso però bisogna farlo con un paio di, secondo me, differenze sostanziali la prima è che le mappe sono molto molto grandi sono questa sorta di mappe sandbox veramente enormi dove lo sviluppatore vuole fare in modo che il giocatore debba utilizzare in armonia, in sintonia, in cooperazione le abilità dei vari personaggi c'è la pausa, quindi rispetto a Shadow Tactics c'è la possibilità di mettere in pausa perché hanno detto che in pratica in Shadow Tactics molto spesso la gente si impanicava quando qualcosa andava storto e andava tutto per il peggio ma invece c'è la pausa, metti in pausa e hai la possibilità magari di risolvere la situazione con un altro personaggio pianificare alcune mosse insomma prendere un momento di calma e respirare l'altra grossa novità è che comunque, però non l'ho potuto provare quindi sarà un po' da vedere le abilità che secondo me sono state date ai personaggi rendono l'esperienza rispetto agli originali Desperados un po' più semplice per esempio questa Isabella che è stata appunto annunciata qua durante la Gamescom aveva la possibilità di controllare con... ha una cerbottana, spara un colpo di cerbottana e tramite questa magia del sangue controlla un personaggio dei nemici quindi può, non lo so, farsi aiutare a prendere un oggetto sparare ad un altro personaggio e così via in più ha quest'altra abilità che le permette, molto carina di unire due nemici unire il destino di due nemici quindi non lo so, se ne ammazzi uno, ammazzi anche l'altro se ne butti uno in acqua, anche l'altro soffoca se ti vuoi poter disonore di due bravissimo, bravissimo e in più ha anche un gattino ha anche un gattino che può distrarre i nemici, che puoi controllare e distrarre i nemici mi è sembrata un po' overpowered lei e anche gli altri mi sembrano comunque abbastanza... cioè, queste abilità sono veramente state create per rendere l'esperienza un po' più semplice rispetto al passato mi è però stato detto allo stesso tempo che ci saranno diverse opzioni per customizzare la difficoltà e si andrà da il molto facile a un'esperienza simile a quella che era quella di un tempo beh, io l'avevo provato io l'ho giocato in realtà Shadow Tactics sì, l'avevo visto Desperados in una build un bel po' più arretrata il fatto che l'abbia reso più accessibile è perfettamente sensato perché obiettivamente Shadow Tactics era molto hardcore però era bello anche per quello spero che non abbiano bastardizzato le meccaniche proprio per venire incontro al pubblico più ampio ma sono abbastanza fudicioso perché si dicono che è stato stratificato così tanto non credo che ci siano preoccupazioni poi per il resto hai visto altre novità? allora, più o meno erano questi i punti fondamentali il nuovo personaggio con le abilità e il gioco diciamo di squadra queste mappe molto grandi poi mi è stata fatta vedere in brevissimo una mappa che loro chiamano non di combattimento una mappa in cui bisogna usare le abilità sociali dei personaggi quindi si è in città a meno di non fare grosse cagate si possono usare i personaggi in borghese normalmente e quindi ci sono tutta una serie di altre missioncine di spionaggio, di infiltrazione diciamo che tendono a dividere un po' il gameplay tra queste mappe più stealth e quelle più di combattimento si vede molto nelle mappe stealth l'influenza di Shadow Tactics cioè si percepisce che hanno ripreso parte di quel lavoro lì mentre le mappe più di combattimento aperte ricordano i vecchi Desperados queste hanno un po' di Shadow Tactics però guarda, l'ho trovato un titolo molto interessante cioè loro sono bravi hanno fatto un bel lavoro con Shadow Tactics sembrano che stiano facendo un bel lavoro con Desperados è interessante l'ambientazione da fine del Far West con i treni che arrivano i tycoon che investono nelle città guarda, devo dire che comunque per il genere che è senza la volontà di essere rivoluzionario e innovativo penso che davvero possa fare la gioia di chi cerca quel tipo di gioco molto bene per ora è tutto su Desperados 3 alla prossima ragazzi ciao